Non è uno scherzo, non è una burla, Francesco Totti vuole ufficialmente tornare a giocare a calcio a 48 anni. Sono passati più di 7 anni dal suo ritiro e in queste ultime stagioni l'abbiamo visto coinvolto in diverse partite di beneficenza e più recentemente, una competizione un attimino più importante, la Coppa del Mondo della Kings League. Certo per quest'ultima competizione si parla di calcio a 5, i ritmi sono completamente diversi, così come quelli di un amichevole, una partita di beneficenza che coinvolge i calciatori del passato. Ritmi molto lenti, anche se si tratta comunque di calcio a 11. La testa di Francesco Totti dice sì, il corpo vedremo poi come reagirà, come risponderà, ma pare che ci siano già state delle offerte reali da diversi club per Francesco Totti per il suo ritorno nel mondo del calcio. Siete pronti per un'operazione nostalgia? Signori, siamo su Football Manager 2017, quindi questo cosa significa? Che copre la stagione 16-17, ovvero l'ultima di Francesco Totti da calciatore. Se volete quindi gestire Francesco Totti da calciatore capitano della Roma, l'unico modo che avete è giocare a FM17. Questa la sua ultima scheda all'interno di FM, l'ultima scheda ricordiamo da calciatore. L'ultima stagione sappiamo come è andata nella realtà, molto spesso partito dalla panchina, ma in diverse occasioni risultato sempre decisivo. La scheda comunque lo conferma, anche se i tempi a 39 anni suonati, che poi sono nel corso della stagione diventati 40 perché li fa il 27 settembre, la scheda si è comunque mantenuta quella di una leggenda, di un vero e proprio re del calcio, in questo caso insomma il cosiddetto ottavo re di Roma. In questo video però vediamo l'opportunità di giocare con Francesco Totti anche nell'attuale edizione di Football Manager 2024. Come sempre ringrazio Marco per aver creato questo particolare database con il ritorno della scheda di Francesco Totti. E beh ragazzi, se si parla di ritorno di Totti da calciatore, so che ci sono tante squadre, tante suggestioni. C'è chi l'ha sempre sognato nella propria squadra del cuore, io ad esempio, ma come tanti l'abbiamo insomma desiderato da interista, ma immagino anche molti milanisti e anni fa, quando ancora era calciatore, parliamo dei primi anni 2000, sembrava veramente molto vicino un suo possibile passaggio in rossonero, così come anche il famoso poi passaggio mancato al Real Madrid. Però ragazzi, si parla di Francesco Totti, non si può non parlare di Roma, e quindi Francesco Totti torna a giocare su Football Manager 2024, naturalmente con i giallorossi, naturalmente da capitano e naturalmente con la 10. La scheda è esattamente quella che abbiamo commentato poco fa su Football Manager 2017, con una sola piccola differenza, il 20 in integrità fisica. Abbiamo deciso di massimizzare questo valore, onde evitare un suo possibile ritiro, già nel corso di questa stagione, come già magari è accaduto con altri calciatori, di 46 anni, perché ragazzi, ha 46 anni, nel senso che abbiamo lasciato a 39, ma aggiornata alla realtà, in questo momento ne ha 28, partendo però dalla stagione 23-24, Totti sta per compiere 47 anni, però in questo momento, a luglio 23, ne ha 46. Hanno più, hanno meno, secondo me cambia poco, siamo molto più vicini ai 50, rispetto che ai 40, ma a prescindere abbiamo abbondantemente superato i 40 anni, e quando si ha a che fare con questi calciatori, con un'età del genere davvero, non sappiamo minimamente cosa aspettarci, perché il calo scontato nelle fisiche, ma vista l'età, un calo scontato anche nel resto. E siamo sinceri ragazzi, tutti noi abbiamo sognato di avere un Miura italiano, c'è una differenza di 10 anni, tra Kazuyoshi Miura e Francesco Totti, ma comunque, due personaggi, due calciatori, che nel caso di Miura non si sono mai fermati, e nel caso di Totti invece c'è un rimpensamento, è una voglia di tornare a giocare a calcio, seriamente, a 11 e a certi livelli. Realisticamente parlando, se mai Totti dovesse decidere di tornare a giocare a calcio, il ruolo più indicato, non è sicuramente quello che vediamo dalla sua scheda, né da attaccante, né da trequartista, ma realisticamente parlando, ce lo vedo in mezzo al campo, o anche più basso, come mediano, come calciatore, che quindi prova di impostare. Naturalmente gli sconsiglio la Serie A, perché i ritmi del nostro campionato, ormai sono nettamente cambiate, rispetto poi ai suoi tempi d'oro, il calcio in generale è cambiato, è un calcio molto più veloce, dove si spendono molte più energie, ma dove inevitabilmente si corre davvero molto, molto di più. Detto questo, però, per questo experiment, volevamo appunto vederlo là davanti, esattamente come ci aveva lasciato, e quindi, o alle spalle delle punte, oppure come unico, vero, punto di riferimento là davanti. Questi sono i giorni del Luca Comics, quindi io non so quando uscirà questo video, non ne ho la più palida idea. Detto questo, non so quindi se la Roma avrà ancora Iuric come allenatore, dal momento che i risultati continuano a essere deludenti, la Roma continua a perdere, e l'ha fatto anche recentemente in malo modo contro la Fiorentina, vedremo poi cosa succederà. Detto questo, volevo proprio inserire Francesco Totti, proprio nella Roma di Iuric, e per farlo, vi ricordate, ho fatto un video dedicato a Iuric, lo trovate all'interno di questo canale, con la spiegazione e il motivo del perché di queste scelte, legate al suo 343, ho voluto prendere quel modulo, il modulo del video, quando ho parlato di Iuric alla Roma, e forzarlo in questo experiment, con Francesco Totti, punto di riferimento, di un reparto offensivo, che si muove decisamente di più, e che naturalmente, dialoga molto di più con il centrocampo, la punta completa Paolo Di Bala, e la seconda punta Dovbic. Quello che faremo in questo experiment, sarà molto semplice, andare in vacanza, fino all'ultimo giorno disponibile, per concludere questa prima stagione, quindi il 27 maggio 2024, andando a forzare la tattica impostata, e quindi conseguenza il modulo, e la formazione. Questi due passaggi fondamentali, se volete vedere, Totti titolare, Totti titolare, con il modulo scelto. Naturalmente quello che ci auguriamo, è che Totti non subisca infortuni gravi, perché può subire infortuni sicuramente, è abbastanza normale, ce lo aspettiamo, sperando non un infortunio grave, perché questo andrebbe a rovinare decisamente, poi tutto l'experiment, e tutta la simulazione. Siamo a metà stagione, già vi dico che ci sarà un'altra simulazione, con uno scenario diverso, naturalmente sempre con, il nostro Francesco Totti protagonista, però prima di mostrarvi, fatemi sapere, secondo voi, quali sono gli esalti Francesco Totti, voglio giocare un po' con voi, è andata bene, è andata male, ha fatto tanti gol, ha fatto più assist, non ha minimamente segnato, fatemi sapere la vostra, voglio così, vedere se qualcuno di voi si avvicina, naturalmente, quello che vi sto per mostrare, sono stati fino a gennaio, fino al primo gennaio, quindi con ancora, praticamente, metà campionato da dover giocare. Beh signori, siamo al primo gennaio 2024, Totti è ancora calciatore, ha deciso quindi di non smettere, di continuare, ma anche perché le sue, validissime ragioni per poterlo fare, perché stiamo parlando di una scheda, che ha subito, un netto, una netta diminuzione, in diverse statistiche, banalmente, come già vi dicevo, le fisiche sono le prime a scendere, a calare vistosamente, notiamo anche un peggioramento nelle mentali, e anche dal punto di vista tecnico, un dribbling che, se non ricordo male, si è rappresentato con un valore 14, è sceso di ben due valori, arrivando a 12, naturalmente, poi anche con un'agilità, che è stata poi, totalmente a perdere nel corso, di questi mesi, ma perché ha valide ragioni per continuare, perché sì, il fisico continua a dire di no, ma la testa dice sì, il cuore dice sì, la passione, e la classe quella ragazzi, può anche avere 80 anni, ma quella non la perderà mai, mai e poi mai, la classe di un calciatore, che credo che abbia nettamente superato, quelle che sono state le sue ultime stagioni, la Roma, senza ancora poi, doverla concludere questa stagione, perché è una stagione ancora in corso, 14 gol, 4 assist, andiamo però a vedere il campo, perché qui siamo curiosi di vedere, cosa ha combinato Francesco Totti, Roma e Juve, quindi, non gol così, contro piccole squadre, ma gol pesanti, e gol che comunque si verificano, su azione, nel 3-4-3 lo vediamo da centravanti, qui, guardate anche lo scatto, che non si tratta neanche di uno scatto, ma di una passeggiata, indisturbato, qui, è preciso il pallone di Celic, ed è lucidissimo Totti, nell'andare poi ad insaccare, se volete un gol alla Totti, beh, eccovi accontentati, e qui, banalmente, molti di voi penseranno, ok, segna, su punizione, in parte, perché la prima conclusione viene deviata, e qui, signori, si ferma tutto, perché è arrivato il suo momento, quello di un gol, alla Francesco Totti, di potenza, precisione, imparabile, per lui Patricio, la Roma a metà stagione, se la sta cavando benissimo, a più uno dall'Atalanta, prima in classifica, con ancora una partita da dover giocare, quindi potenzialmente un distacco che può diventare di più 4, un distacco minimo, che separa Gianluca Scamacca, miglior cannoniere, il miglior attaccante del campionato, a quota 11 gol, Totti secondo, a quota 10, con ancora metà stagione da giocare, ci rendiamo sicuramente conto, che Totti non vuole solamente vincere lo scuoletto con la Roma, ma vuole anche essere protagonista, poi, dell'intero campionato, giallorossi coinvolti in Europa, con ancora il vecchio format dell'Europa League, primi, senza perdere nemmeno una partita, a punteggio pieno, a 18 punti, e squadra che deve ancora giocare in Coppa Italia, il primo confronto sarà contro la Reggiana. Sul rendimento della squadra non avevo grossi dubbi, mi fido molto di questo modulo, l'ho utilizzato più volte anche in live, ci siamo tolti diverse soddisfazioni. Impressionante però per ora, quello che sta offrendo Francesco Totti, perché sono numeri veramente da grande attaccante. Ci siamo signori, il campionato si è appena concluso, e la Roma vince la Serie A, vince lo scudetto, prima in classifica, con 88 punti. Si è puntato a vincere tutto, ma la Roma esce in semifinale di Europa League, dopo un bel percorso europeo, dopo un bel cammino, vince il doppio confronto 8-4 contro il Porto, vince il doppio confronto contro il Trinizza, e quarti finale per 4-2, perde in totale 6-3 addirittura contro il Tottenham, insomma Roma e le inglesi, è sempre diciamo un brutto confronto. Un attimino più deludente la Roma in Coppa Italia, perché non si fronteggia mai con una vera e propria big, prima la Reggiana, poi il Torino, e poi il Bologna, la Roma esce proprio contro il Bologna, in semifinale, il totale tra andate e ritorno, 3-1 per il Bologna. Però mister, noi siamo qui perché vogliamo sapere una cosa, cosa ha fatto il capitano, cosa ha fatto Francesco Totti in questa sua stagione alla Roma, in questo suo romantico e fantastico ritorno all'interno del mondo del calcio, da calciatore, da protagonista assoluto, perché ha totalizzato, pensate ben, 52 presenze, non ha praticamente mai saltato una partita, se ne è saltata davvero pochissime, 37 vedo di campionato, quindi ne è saltata una, probabilmente per squalifica, e poi forse anche qualche altra partita assaltata in Europa League, ma sono comunque tantissime le presenze, ricordiamo sempre dal primo minuto. Francesco Totti conclude la sua stagione intanto con queste statistiche, quindi con un nettissimo calo, ma pensavo peggio sinceramente, sia nelle fisiche, che nelle mentali, che nelle tecniche, e ribadisco, pensavo molto peggio, soprattutto riguardo le mentali, ma soprattutto signori, vi ho parlato dei numeri, sì, delle statistiche, delle presenze di Francesco Totti in campo, non vi ho parlato né di gol, né di assist, vi dico solamente 8 assist, che non sono male, per giocare nel ruolo di centravanti, vi dico più di 20 gol, per la precisione, 26, sono 26 i gol totali, realizzati da Francesco Totti, attaccante capitano della Roma, con la 10, ricordandovi però quel piccolo, ma fondamentale dettaglio, a 47 anni suonati. Analizziamo però anche i problemi, di avere a che fare con, un attaccante del genere, quindi con un attaccante, seppur esperto, seppur fantastico, ma attempato e l'accogliani, qui tutte le lacune, tutte le carenze, che riguardano i passaggi, pochi passaggi, e di quei pochi, anche diversi passaggi sbagliati, poca distanza percorsa, basso numero di scatti completati, pochi colpi di testa, scarso di testa, ma su questo Totti diciamo, che non è mai stato il suo forte, anche se comunque analizzati di gol di testa, e poi anche gli assist, insomma, pochi, pochi passaggi, bassi assist, insomma, anche di un valore, a livello di passaggi chiave, probabilmente questo è legato più al ruolo, che non hanno portato poi Totti a essere decisivo sotto quell'aspetto, però decisivo, comunque, nella cosa più importante, nel gol, nei punti, gol importanti, decisivi, abbiamo visto anche quella Juventus, non segna solamente contro le piccole. Il primo è Dovbic, il secondo è Morata, Totti è terzo nella classifica dedicata all'XG, all'Expected Goal, quindi è uno anche di quei calciatori che comunque riesce a creare delle nitide occasioni, e questo può compensare poi tutti i suoi problemi, perché comunque un attaccante con tutti quei problemi che ha dal punto di vista fisico, riuscire a essere comunque lì in alto, tra i grandi, beh, è una dimostrazione di forza, è una dimostrazione davvero molto importante. Calciatore che spesso ha approfittato anche di come tende a funzionare, a lavorare questo modo, andando molto spesso poi ad approfittare di quelli che sono dei passaggi rasoterra provenienti dalle fasce, il più delle volte provenienti quasi dalla linea di fondo. E anche in questa occasione, nel gol che ha portato poi la doppietta per Francesco Totti, praticamente una di un'alca davvero molto molto simile, un Totti che comunque, ribadisco, a prescindere da tutto, sa muoversi bene, sa finalizzare, sa lavorare con i tempi giusti. Altra stagione, sempre Roma, ma scenario diverso. Quando si parla di Francesco Totti, non si parla sempre solo di lui, ma si parla anche poi di un altro personaggio, di un'altra figura molto importante, che ha accompagnato la carriera di Francesco Totti per diversi anni. E stiamo chiaramente parlando di Daniele De Rossi, tra l'altro ex allenatore della Roma, allenatore che in questo scenario torna alla Roma con Francesco Totti da calciatore. Fa un po' strano, perché ai tempi è stato Totti a ospitare, a dare il benvenuto a De Rossi, ancora ragazzino, ancora giovane, che veniva appunto dalla primavera, qui un po' diciamo il contrario, nel senso che sarà, diciamo in questo caso, De Rossi a dare il bentornato, il benvenuto a Francesco Totti da calciatore. E quindi si ricrea questa coppia, questo duo, un allenatore, e l'altro invece, centra avanti nel suo 4 e 3. Questo modulo invece, ne abbiamo parlato l'anno scorso praticamente, qualche mese fa, in realtà quasi un anno fa, quando De Rossi da poco era diventato il nuovo allenatore della Roma, a stagione in corso a febbraio al posto di Murigno. Questo modulo ha però diversi mesi, lavora sempre su F24, perché tristemente non è uscito F25, ma sicuramente non è un modulo aggiornato alla realtà, anche perché la realtà è stata cattiva con De Rossi, è stata cattiva anche con me, perché non mi ha dato modo per approfondire il lavoro di De Rossi dal punto di vista tattico. Quindi staremo a vedere, ci sono molte meno certezze, ci sono molti dubbi, ma soprattutto, a differenza di prima dove Totti era nettamente aiutato dal lavoro delle seconde punte e dai terzini, qui invece, secondo me, in questo contesto, come unico e vero e proprio riferimento, punto di riferimento là davanti, sarà un pochino più dispendioso a livello di energie, e sarà forse una stagione più complicata per il nostro capitano. Guardiamo per l'ultima volta la scheda di Francesco Totti, base, perché sicuramente, già a metà stagione sarà nettamente diversa. Rilancio sbagliato di Scuffetti, il recupero alto da parte della Roma, il Sharawi e Sarvenzo Lafè, e Totti di sinistro, di prima intenzione, super a Scuffetti. Contro l'Empoli, Selic, a servire l'assist per Francesco Totti, un gol che ricorda molto quelli visti nella stagione passata, col precedente modulo. Sarò banale, sarò quello che volete, ma un gol da rigore con Totti non l'avevamo ancora visto, quindi eccovi accontentati. I numeri a livello di gol sono simili. Alla stagione quella con Juric allenatore, con il modulo Juric, con il suo 3-4-3. 22 presenze, 12 gol, meno efficace dal punto di vista degli assist. Secondo me già metà stagione con Juric, qualche assist in più l'aveva fatto, qui invece si è fermato a uno. Scheda che come possiamo facilmente notare ha già perso tanti valori, sia nelle fisiche, nelle mentali e anche nelle tecniche. Roma che però a sto giro invece male, molto male, a metà campionato, solamente al tredicesimo posto, con solamente 22 punti fatti. E questa volta sembra essere Lautaro, il re del campionato, con già 14 reti. I giallorossi se la cavano almeno in Europa League, non a punteggio pieno come la simulazione precedente, ma comunque sempre padroni del loro girone. Una stagione quella dei giallorossi è praticamente quasi all'opposto, rispetto a quella con la simulazione precedente, con il modulo Juric e col suo 3-4-3, mentre invece Daniele De Rossi, il suo 4-3, ma soprattutto la Roma, male, male, male. 50 punti in totale, solamente undicesimo posto in classifica. Anche in Europa League, andamento diverso, negativo rispetto alla simulazione precedente, perché si ferma ai quarti di finale, questa volta non raggiunge nemmeno la semifinale, si ferma nel doppio confronto, equilibrato, ma comunque ne esce da sconfitta, la Roma contro la Juventus. In Coppa Italia, ancora più triste, perché si ferma solamente al terzo turno. Tanti alti e bassi, tanti risultati negativi, ma tanti gol comunque da parte di Francesco Totti. 52 le presenze di Totti nell'ultima simulazione, 45 in questa, erano 26 gol su 52 presenze nella precedente simulazione, sono 22 gol su 45. Sicuramente nettamente inferiore il numero di assist, perché qui solamente 3 nella simulazione precedente 8, non è mai stato il suo punto forte, ma anche perché, ripeto, da attaccante, diciamo che tendenzialmente, non ne fa molti, soprattutto poi il ruolo da centro avanti, poi dipende anche come lavori, ma lì nel 4 e 3, come unico punto di riferimento, diciamo che gli assist, non sono fondamentali, non sono nemmeno poi richiesti. Qui però mancano all'appello 7 partite, se vogliamo poi andare a replicare le 52, e mancano 4 gol rispetto ai 26 della passata simulazione, quindi questo alla fine cosa significa? Comunque se la Roma ha fatto male, pensando al modulo, perché il 4 e 3 è reso molto meno rispetto al 3 e 4 e 3, Totti però è rimasto su quei livelli lì, i suoi gol li ha comunque fatti, seppur meno pesanti, ma comunque a livello di numeri. Nella stagione passata, vincendo lo Scudetto da quasi protagonista assoluto, in questo tanti gol, protagonista assoluto, purtroppo però da solo, e non con anche i suoi compagni di squadra. Cambia il modulo, i problemi sono rimasti i medesimi, anche perché comunque il ruolo è sempre lo stesso, certo si lavora in maniera oggettivamente diversa, perché come dicevo prima, come spiegavo prima, in uno si è supportato da due seconde punti, una seconda punta e una punta completa, qui invece là davanti sei da solo, anche se poi comunque ci sono le le invertite, ma diciamo che è molto più spazio, la produzione fisica, gli assist, i passaggi, i movimenti, insomma problemi che abbiamo già evidenziato nella precedente simulazione e che si vanno a ripetere anche in questa. Calciatore comunque che non perde il vizio di essere infallibile dal dischetto, sei rigori, sei gol, e rimane uno dei più pericolosi là davanti, per expected goal, quindi un attaccante che comunque quando calcia verso la porta lo fa andando a accumulare comunque un punteggio alto, quindi creando delle chiare occasioni da rete. In questo caso è Lukaku a essere primo, primo assoluto, con un netto distacco già anche nei confronti di Lautaro, e poi segue Milan Diuric con un punteggio abbastanza simile a quello di Francesco Totti. Questo experiment signori finisce qui, qui nei commenti troverete tutte le info, vi ricordo che sul canale Discord strumenti utili per le vostre carriere di football manager, non solo dal punto di vista grafico, ma anche con questi database e altri strumenti che vi serviranno per arricchire le vostre carriere di FM. Totti alla Roma o Totti svincolato? A voi la scelta e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!